Strotti, strotti, si provis! Andiamo a fare la spesa, amiche? Profumo di torta di mele, torta di mele, che buona! Amiche, credo che lo shopping dovrà aspettare! Vado a fare uno spuntino, a dopo! Sta succedendo qualcosa a New York! La Statua della Libertà! Che statua grandiosa ed elegante! Con la sua corona e tutto il resto! Sì, è una delle statue più famose al mondo ed è molto, molto strano che la torcia sia spenta! Cosa sarà successo? Credo che lo sapremo soltanto andando lì! Non vedo l'ora di tornare a New York! Comunque e comunque sarà, Pinky Promise ci guiderà! Welcome to New York! Magnifico! L'adoro! Ascoltate, amiche, questa grande strada si chiama... Lucy! Va bene, dillo tu, Emma! Grazie, Lucy! Ebbene sì, questa grande strada si chiama Fifth Avenue ed è la via più alla moda della città! Questi sono grattacieli! Si chiamano così perché sono così alti che grattano il cielo! E qui, una delle piazze più belle di tutto il mondo, Times Square! Oh no! E ora come vedrò le vetrine della moda! Oh, non ci credo! Questo succede perché la torcia della Statua della Libertà si è spenta! Bisogna sapere cos'è successo il prima possibile! Ma dove guardiamo? Trovato! Dobbiamo cercare la lucciola magica! Le lucciole vivono nelle piante! C'è un parco qui vicino, per caso! Certo che c'è un parco! E che parco! Andiamo a Central Park! Quanti alberi! Quanti fiori! È bellissimo! Eccola! Qual è il problema, lucciola magica? Perché non hai acceso la torcia della Statua della Libertà? Poverina! Le sue zampe sono incastrate in una gomma! Non riesce a muoversi! Che cosa brutta! Buttare gomma da masticare spazzature in un parco! Ci sono i cestini per questo! Andiamo, piccolina! Ti aiuto io! Trovato! A volte è la natura stessa darci la soluzione! Dobbiamo trovare tre tripogli e prendere il loro olio magico! Ma ci vorrà parecchio! Bisognerà avere pazienza! Grazie, Emma! Con te è tutto più facile! Bene, ora possiamo andare alla Statua della Libertà! Forza, lucciola! Ti portiamo noi! Hai una missione molto importante! Bene, ora è tutto risalto! Allora possiamo andare a guardare le vetrine? Per favore! In effetti c'è ancora tempo! Sì, potremmo andare! Mi piace l'idea! Andiamo! Sì! E ora, nanna, belle bimbe! Domani giocheremo ancora di più! Oggi è carnevale e bisogna travestirsi! Emily, hai preso il tuo costume? Andiamo, arriveremo in ritardo per il carnevale! Il mio costume! Arrivo, mamma! Ciao ragazze, divertitevi! Ragazze, mi dispiace rovinarvi il ballo, ma la mappa ci sta avvisando! Ehi, piccolo rinoceronte! Non senti che ci sta chiamando la mappa? Per tua informazione, io non sono un rinoceronte, sono un unicorno e adoro essere un unicorno! Se ti senti un unicorno, meglio così! Un messaggio da Adriana, da Rio de Janeiro! Sentiamolo! Olá, come state? Qui a Rio de Janeiro, carnavale! Carnevale? Adriana ci sta invitando al carnevale! Ma il carnevale di Rio de Janeiro non è il più famoso del mondo! Shhh! Va bene, starò zitta! Olá, come state? A Rio de Janeiro, carnavali, abbiamo un problema! Non c'è musica! Qualcuno ha robato la samba! Abbiamo bisogno del vostro aiuto, per favore! Se non c'è samba, significa che non ci sarà... Carnevale! Resteremo senza carnevale e senza poter ballare! A noi piace molto ballare! Non preoccuparti, Sofì! In fondo noi siamo le trottisa! Andiamo a Rio de Janeiro! Comunque e ovunque sarà... Pinky Promise ci guiderà! Non riesco a capire come un posto così bello non avrà più il suo carnevale! Ragazze, siamo in Brasile, sulla spiaggia di Copacabana! Fantastico! Ragazze, quando vi sarà chiaro cos'è successo con la samba, mi avvertite! Vado a farmi un pisolino, sono molto stanca per il viaggio! Emma, se fossi in te non mi scederei! Quello fraio, forse... Forse l'hanno lasciata lì perché è rotta! Non si dovrebbero lasciare, rottami vecchi sulla spiaggia! Non ho visto niente, nessuna traccia della samba! Dove altro potremmo cercare? Abbiamo cercato per tutta la spiaggia! Ma questa è la samba! Ma certo, adesso mi ricordo al re del carnevale, Re Momo! Sono sicura che lui sa che cos'è successo! Re Momo, tu dici che la samba è nel tuo cappello, giusto? Sì, non volevo che si perdesse! Ma ora non posso tirarla fuori senza il bastone magico! Me l'ha rubato un picchio e non riesco a trovarlo! Beh, se un uccello l'ha portato via, sarà in alto sicuramente! Il sito più alto del Brasile è questo! Questo è il Cristo Redentore! Aha! Ecco il bastone! Il bastone sta per cadere! Come ci arriveremo lì sopra? Oh no, so già che cosa vuoi fare! Io non so volare! Perché devo andare io? No! Ci fidiamo tutte di te! Ma allora che cosa servono le ali? Se non per voi... Che inizi il carnevale di Rio de Janeiro! Riuscite a crederci! Quando è iniziata la festa, la musica non funzionava! Meno male che poi è ripartita! Che cosa sarebbe il carnevale senza la sua musica? Siamo le Trottis! 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 Pinky Provis!